Buongiorno, io sono Lico D'Assoli, vi preparo la marmellata al limone, si servirà. Le limone le mettiamo sotto per bene qui dentro, poi mettiamo lo zucchero, lo mettiamo lì, e poi un limone snudo e lo mettiamo lì, e poi lo chiusciamo con la pellicola per un po' di minuti. Allora, mettiamo tutto il limone per bene. Abbiamo fatto che le abbiamo messe, mettiamo un po' di zucchero. Ora manchiamo, ma di tutto non da per tutto. Ora mettiamo un po'. Ora, se l'abbiamo messo, vanno in là, però bisogna fare così, mettiamo un po' di zucchero. E poi mettiamo lo zucchero. Escoliamo. e torna un po' come ripostato dopo che l'avete beccolato lo fate riportare ora facciamo l'aspo riportarlo e se mi rimane un attaccatore e un cucchiaio non li cade pure dopo qualche oretta che ci sono riportate le mole le mettiamo dentro la pentola e le mettiamo le miele vi faccio vedere come si fa quando vado a posto di facciaggere la mola? quando vado a posto di facciaggere la mola? quando vado a posto di facciaggere un chitto di mola? pure tutto oh, le ragionanze al capo di facciaggere la mola ora vado a posto di facciaggere la mola ah, shall we go e allora o l'alty uno se c'è vol la mola Scusate che mi ha fatto solo un po' di miele Se so con i miele lavo la samba La samba questa cucchiai Tu mi ha fatto un po' di miele pelle Ecco, ora guardate come è venuto E poi quando il polo sono rassati Accordi che il polo diventa bevosto che è finita malezzata Su, in polo! Ora la marmellata è pronta Allora ci vediamo nelle nostre prossime ricette Vi saluto, ciao!